Si amplia la rete del servizio civile portata avanti in questi anni dalla Croce Rossa del Tiguglio, entra in campo il comune di Cogorno, in che modo? Questo qui è il primo progetto che lavoriamo insieme a Croce Rossa e tra l'altro è un primo progetto anche con la collaborazione dei Lanci, con la regia dei Lanci ed è un grosso risultato perché allarghiamo la rete e questo è importante. Allarghiamo la rete e coinvolgiamo i giovani. I giovani hanno un mondo che è quello del sociale, noi abbiamo un progetto legato al sociale, legato agli anziani, legato al nostro ufficio dei servizi sociali ed è un passaggio molto importante che è legato alla Croce Rossa, pertanto anche a tutto quello che è il soccorso, la valorizzazione proprio dell'aspetto del primo soccorso, c'è questo aspetto del sociale. Quattro posti disponibili, cosa faranno questi ragazzi? Allora, il progetto legato al sociale sono quattro ragazzi, lavoreranno in sinergia con i nostri servizi sociali, pertanto per quanto riguarda l'area anziani e noi abbiamo tante belle idee, ci sono tanti lavori da fare, tante opportunità proprio di accoglienza e di avvicinamento. È un passaggio importante per i giovani perché fare un anno di servizio civile, tra l'altro anche leggermente remunerato, ma comunque sia, è una preparazione alla vita, è una preparazione a far sì che oltre che al lavoro, oltre che avere degli impegni lavorativi nella vita che tutti ce l'auguriamo, c'è anche l'aspetto sociale, l'aspetto del volontariato e questa è una forgiatura che viene impressa ai giovani e pertanto grazie a quei giovani che accetteranno e fate, diciamo, anche passaparola perché è importante che partecipano tanti. Il corso è di quattro, ma legato a quello della Croce Rossa sono parecchi ragazzi e di conseguenza aspettiamo a braccio aperto tutti voi.